Buongiorno a tutti, oggi vediamo di un argomento abbastanza importante per quelli come me che lavorano conto terzi, per altri professionisti soprattutto e nel mio caso gli altri professionisti non hanno software Autodesk e magari non sono mai intenzionati ad acquistarli, quindi non hanno Revit. Le revisioni del progetto e le correzioni, le eventuali correzioni ci sono sempre o modifiche del progetto hanno come base uno scambio di tipo cartaceo oppure la telefonata, insomma sappiamo tutti come funziona. Abbiamo altri strumenti a disposizione per rendere la cosa diciamo più efficace? Sì, andiamo a vedere insieme quali sono. In descrizione troverete il link di questo sito, ovviamente dell'Autodesk, dove voi stessi, sarà il caso, e il vostro committente potete andare a scaricare i visualizzatori gratuiti messi a disposizione da Autodesk per noi e per chi non ha Revit in questo caso. Quello che mi interessa segnalarvi è il Design Review. Il Design Review è un visualizzatore che legge, oltre ai formati che state trovando scritti, descritti qui sopra in questo momento, legge anche il formato DVF-X. Ce n'è due, DVF-X, il DVF-X è semplicemente un'evoluzione del formato diciamo di base che era il DVF. Il DVF che cos'è? E il Design Review che cos'è? Sostanzialmente ho un visualizzatore di quello che voi stampate da Revit che vi permette di mettere al suo interno le revisioni. Però andiamo a vedere come si fa e come funziona il tutto. Ok, sono passato a Revit, ho già aperto un progetto, questo l'avete già visto altre volte, quello che utilizzo durante i corsi. Benissimo, cosa devo andare a fare? Beh, intanto devo esportare un DVF-X. Per esportare il DVF-X devo, non sono obbligato, ma diciamo che mi conviene sotto un certo aspetto, e poi questo è un tutorial, vediamo come si fa. Devo andare a creare delle impostazioni che sono quelle di stampa. Io parto dal presupposto, file stampa, che voi già conoscete Revit, quindi bypassso alcune informazioni, vado avanti abbastanza velocemente. Quindi nella selezione di stampa vado a creare un salvataggio di una selezione delle tavole che voglio esportare, e poi in un secondo momento non stampare, esportare all'interno di questo DVF. Ho scelto una tavola sola, quella che state vedendo in questo momento, e vado a salvare con nome, e il nome che gli ho dato è Revisioni. Potete poi aggiungere altre tavole in un secondo momento. Gli do a nulla. Poi nella parte delle impostazioni di stampa, ho creato, mi fermo un attimo perché c'è un'informazione che non vi ho dato precedentemente, ho utilizzato come stampante il PDF Creator, perché? Perché se uso la mia A4 tutto questo non funziona. Gli ho dato un nome A1 per la stampa in dimensioni 1 A1, di fatti questa tavola è in A1, e tutto il resto l'ho settato come si setta normalmente per stampare. E anche qui ho salvato questa impostazione qui. Gli do a nulla e gli do chiudi perché non voglio stampare nulla. Adesso non mi resta che esportare, quindi file, esporta, esportare un DVF, o in questo caso un DVF-X. Quattro clic. Tutto molto semplice perché le viste e le tavole le ho già create con revisioni. Lo abbiamo fatto un attimo fa, quindi sono già state selezionate. E in ogni caso qui troverei un elenco potendo poi togliere o dovrei rifare tutta l'operazione, ma comunque aggiungerne altre in un secondo momento. Quando li do avanti, o comunque in proprietà DVF, trovo anche il nome delle impostazioni di stampa. Quindi questa è una tavola A1, viene esportata in A1. Questo perché? Perché mi evita di avere quella marginazione bianca intorno che mi dà un pochettino di fastidio. Tutto qui. Ancora avanti. Ok, vado a scegliere qual è, adesso lo faccio nel desktop, qual è la destinazione del salvataggio. Io l'avevo già fatto in precedenza per fare un test. Revisioni Progetto sarà il nome che io andrò a dare a questo DVF-X. E gli do OK. Lo sostituisco, nel mio caso, nel vostro caso probabilmente non sarà indispensabile. Do un attimo a Revit per esportare questo file. Poi chiudo Revit. In realtà, più che chiuderlo, aspetto che finisca, che ci metti un attimo, lo riduco a icona. Mi basta fare doppio clic perché il DVF, scusate, il design del review l'ho già installato. Con doppio clic si apre il software. Questa è la parte, diciamo, dedicata al vostro cliente, al quale vi potete tranquillamente far vedere questo video, se non glielo volete spiegare voi a voce. Io alcune modifiche di colore le ho già fatte e bypasserò questa informazione, ma velocemente vi faccio vedere come funziona. Velocemente perché? Perché poi di opzioni le avete molte altre, non voglio andare a vederle tutte. Vi sto semplicemente dando una via per iniziare. Normalmente consiglio di utilizzare un rettangolo, se serve rettangolo. Mettiamo i fumetti di revisione, ok? Un rettangolo con l'etichetta, così ci rimane la scritta al suo interno. Però si può utilizzare anche il rettangolo vuoto. Quindi io clicco su rettangolo con fumetto, ok? E vado per esempio a inserirne uno qui, dove vado a dare un'indicazione all'interno dell'etichetta, dove scrivo lettere non numeri, ok? Clicco in un punto vuoto e questa è la mia prima etichetta. Nel mio caso è rossa perché sono andato a cambiare alcune impostazioni. Vediamo cosa dobbiamo sapere di questa etichetta. Questa etichetta in questo momento non ha uno stato. Cosa significa? Una volta che l'ho selezionata, vado qui nelle proprietà e questa etichetta potrebbe essere una revisione, una domanda, oppure fatto significa che non mi interessa più, è già stata revisionata, ok? Sarebbe un check. Quindi, in questo caso, revisione, per esempio. In un altro caso, ne facciamo solo due. Adesso ho dato un click, invece che tenere premuto, ho dato due click veloci. Vado via veloce. Hai verificato ovviamente la somma, no? Ma potrei anche scriverlo. Seleziono la mia etichetta e gli dico guarda, questa non è una revisione, ma è una semplice domanda. Ok. Perfetto. Come vedete, hanno due colorazioni differenti. Questo lo farà il vostro committente. Vi conviene fare una prova a voi, vedere quali sono le cose che vi interessano, che poi lui in un secondo momento faccia e quando abbiamo finito, meglio, quando ha finito, chiude e salva. Quindi, salvo. Chiudo proprio il software. Ok. Adesso tocca a me. Entro in Revit. Il committente mi ha mandato, utilizzate Drive, Dropbox, quello che volete, via mail, e mi ha mandato via mail la sua revisione del progetto. Quindi io devo andare nella scheda Inserisci. Qui trovate Revisione DVF. A parte salva progetto, che è sempre inopportuno, li diamo a nulla, andate a cercare la cartella dove avete salvato il file che vi è stato mandato dal committente e li date Apri. Come potete vedere, se per caso, nel frattempo, avete cambiato nome o c'è stata qualche modifica, potete andare a sostituire, per esempio, la vista del DVF con la vista di Revit. Basta semplicemente cliccare qui e andare a selezionarne un'altra. Perfetto. Ce ne sono solo due in questo caso. Non mi interessa farlo. Gli do ok. viene praticamente sovrapposta, in realtà non tutta la vista, vengono sovrapposte, solo le revisioni e in questo caso noi selezioniamo questa, facciamo la modifica, ok? Prendiamo sezione 1 e gli mettiamo a sezione A. Committente, poi è contento, noi anche. selezioniamo la nuvoletta di revisione, qui lo stato è in inglese, beh, non penso che sia un grosso problema, don, fatto, perfetto. Questa l'abbiamo sistemata. Andiamo a vedere la seconda revisione, hai verificato, ok, qui mi fa una domanda, va benissimo, possiamo anche qui ceccarla, mettere il check come don, perché l'abbiamo, l'abbiamo effettivamente, effettivamente verificata e gli mettiamo come nota magari un sì, oppure verificata il, mettiamo sì e basta, senza, scusate se non clicco sui tre puntini qui a fianco, non posso scrivere quello che voglio scrivere dentro, perfetto. Cosa ci resta da fare? Beh, ci basta salvare il nostro file di Revit e chiuderlo. Questo è il dvfx che abbiamo appena modificato, doppio clic, attendo un attimo che si apra, quindi gliel'abbiamo rispedito al comitente. Sì, beh, io non ho esportato nulla, non vi serve esportare. Nel momento in cui salvate Revit, il vostro file di Revit fa di progetto automaticamente, visto che le due cose sono collegate, andrà a sovrascrivere questo file e a mettere che cosa? Ok, ne seleziono una. Intanto sono diventate gialle, prima avevano un altro colore, cioè c'era solo il rossa, adesso c'è un'evidenziazione gialla, si può anche cambiare questo colore, però qui c'è scritto che allora prima sono andato via di fretta, qui vedete tutte le varie, ce ne sono solo due, ok, tutte le varie, non volete che avete inserito, ogni volta che ne selezionate una, trovate scritto fatto, perché è stata eseguita, ok, sia questa che questa qua, perfetto. Sotto, nello stato, ok, nella cronologia, troverete anche le eventuali annotazioni che voi avete messo nel dvft, o meglio, nel file di Revit, hai verificato le superfici? Sì, le ho verificate, sì, le ho verificate il giorno, insomma, scrivete il pistolotto che vi serve scrivere, ok, sono andato via abbastanza veloce, perfetto, il comitente però si accorge che avete fatto un'altra faloppa, e vi scrive che avete che hai dimenticato questa, ok, come potete vedere non avendo esportato di nuovo il dvfx, non ho aggiornato la stampa, ma ho aggiornato solo ed esclusivamente le revisioni, non importa, lo faremo in un secondo momento, il comitente mi dice, guarda che hai dimenticato questa, ok, va bene, perfetto, salva il file, chiude, per revisione, pardon, mi ero dimenticato io, salva il file, chiude, io torno in Revit, torno in Revit e adesso devo ricaricare, a meno che io non abbia chiuso il file, quindi facciamolo, dai, già che ci siamo, lo chiudo, ok, e lo torno a caricare, vado nella mia tavola di stampa, ok, e trovo la nuova nuvoletta, a questo punto metto a posto anche questa, mi metto sezione B, ho fatto anche questa, sì, ok, for review, li metto down, salvo, file, esporta, vado a riesportare di nuovo e a sovrascrivere in revisioni progetto e gli do ok, anche qua dovrò aspettare un attimo, avete già capito che riesportandolo una seconda volta, vediamo se funziona, riesportandolo una seconda volta, rimandando al committente il dvfx, perfetto, ci mette un po', avremo esattamente la situazione aggiornata, quindi, per concludere, la prima volta io ho semplicemente salvato Revit per farvi vedere che non aggiornava in automatico la stampa, perché di fatto l'esportazione è come una stampa, aggiornava semplicemente le etichette, se invece voglio aggiornare sia le etichette che la stampa sottostante, anche perché se qui fossero rimasti i numeri, non ci saremmo capiti, allora per evitare diciamo incomprensioni fra me e chi deve leggere il file, a questo punto mi conviene esportarlo ogni volta, ma se sono a fine giornata e non ho finito di fare il mio lavoro a questo punto non ha nessunissimo senso, salvo Revit, domani mattina lo riaprio, quando ho finito tutto salvo ed esco. Ok, siamo arrivati alla fine, spero di esservi stato d'aiuto, io questo strumento lo utilizzo moltissimo, ricordatevi che ce ne sono degli altri, però questo è a costo zero, ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao! Ciao!